Una giuria di 60 liceali italiani delle sezioni bilingue ESABAC originari di tutta la penisola sono stati invitati a scegliere nella prima lista del premio Goncourt composta da 15 libri la loro opera preferita. La lista Goncourt, la scelta dell'Italia, è un progetto immaginato dall'Istitut Francais d'Italia e realizzato in associazione con l'Academy Goncourt e il Salone del Libro di Roma, più libri più liberi. Questi liceali hanno scelto Charlotte di David Fonquineau. Per l'occasione tre membri illustri dell'Academy Goncourt, Paul Costant, Pierre Assuline e Bernard Pivot hanno dialogato con i liceali a Palazzo Farnese, sede dell'Ambasciata di Francia in Italia, e hanno assistito alla premiazione tenutasi alla fiera del Libro di Roma, più libri più liberi. Questo progetto, incentrato sulla critica letteraria, propone uno strumento pedagogico originale alle classi ESABAC. Inoltre contribuisce a promuovere la letteratura contemporanea di lingua francese in Italia. Questa iniziativa è stata possibile grazie alla gentile collaborazione degli editori e degli autori selezionati. Paul Costant applaudi alla scelta dei ragazzi del Libro vincitore. È una scelta molto commovente perché si tratta del destino di una donna sotto il regime nazista e questa donna è un'artista, una pittrice. È il destino di una giovane donna uccisa nella sua giovinezza nel momento in cui aspetta un bambino. E tutti questi destini femminili legati insieme ne fanno un libro molto forte e a mio parere molto importante. Ma soprattutto la diffusione della lingua francese è stata al centro della giornata. Sia Pierre Assouline che Bernard Pivot hanno ribadito l'importanza dell'esportazione della francofonia. Accroire l'influenza del francese nel mondo, bisogna che i francesi aimentano la loro lingua, molti l'aimentano, ma altri non l'avano. La prima cosa sarebbe che i francesi amino la lingua francese. Molti l'amano, ma altri non l'amano abbastanza. Un'altra cosa sarebbe quella di smettere di usare parole americane nella lingua francese. Si deve avere rispetto per la nostra lingua, l'amore della nostra lingua. E lo Stato deve impegnarsi nella lingua, investire nella cultura francese, nei portavoce della lingua all'estero, cioè negli istituts français, le ambasciate, i licei francesi. Deve continuare quest'azione e non diminuire i crediti che sono destinati all'azione della lingua francese e della cultura francese all'estero. Purtroppo questi crediti diminuiscono ogni anno da cinque anni. E questo è un peccato. Dobbiamo continuare a lavorare e militare per la lingua francese all'estero. E allo stesso tempo i francesi devono dimostrare che amano la loro lingua. Credo che quello che sia indispensabile è prendere coscienza che la Francia ha la più importante rete culturale all'estero. La prima al mondo, prima degli Stati Uniti, del British Institut dell'Istituto Cervantes, la prima del mondo grazie all'Istitut français e all'Allianz francese, sono dappertutto. Vorrei che ci fosse una volontà politica in Francia che diai mezzi economici e finanziari per sviluppare e sostenere quest'azione straordinaria della rete culturale francese all'estero. È una base che non si deve perdere perché è grazie a questa che la francofonia è viva e si svilupperà ancora di più. L'incontro è stata anche occasione per dibattere sul ruolo della letteratura francese al giorno d'oggi, sull'importanza che hanno i social network e i libri digitali. Per Pierre Assuoline in particolare il libro digitale rappresenta una vera e propria rivoluzione culturale. Quello che ha già cambiato e che cambierà ancora di più negli anni a venire è una rivoluzione culturale in quale si dice alle persone che non si deve più parlare del libro come si faceva prima. Prima, quando si diceva libro, si parlava del supporto cartaceo e del suo contenuto. Oggi si deve mettere in testa che è possibile dissociare il contenuto dal contenitore. Il contenitore esisterà sempre, il libro cartaceo esisterà sempre, ma non sarà più il contenitore cartaceo quello principale. Ma la cosa più importante è il contenuto. La letteratura si trova nel contenuto, qualunque sia il contenitore. L'unica cosa differente è che l'oggetto non avrà più tanta importanza quanta ne aveva prima. È grave? Non credo. Simplemente il libro, in tant'obiettivo, non ha più la même place qu'avant. Est-ce que c'est si grave? Per lo scrittore e conduttore televisivo Bernard Pivaud, il fascino dei social network consiste soprattutto nell'esercizio di sintesi che ti costringono a fare. Sono molto attivo su Twitter. Ogni giorno tweeto una frase di meno di 140 caratteri. È molto interessante perché si deve esprimere un'idea, un sentimento o un ricordo in meno di 140 caratteri. È un esercizio molto interessante, un modo di domare le parole, di riuscire ad articolarle con umorismo e con forza in pochi caratteri. È un esercizio di stile molto buono. Penso che ci si possa esprimere su Twitter rispettando la nostra lingua, giocando con la lingua francese. Ho più di 250.000 follower e tra loro ci sono tanti stranieri, spagnoli, americani, inglesi, europei, che si interessano alla lingua francese e spesso traducono i miei tweet. Ci si deve impegnare in tutte le invenzioni moderne di comunicazione e appropriarsene, non lasciare questo solo agli altri paesi ed esprimersi nel miglior modo possibile in francese. La presenza della Francia alla fiera Più Libri, Più Liberi, svoltasi dal 4 all'8 dicembre 2014 è stata quest'anno di grande rilievo. Il pubblico italiano ha potuto infatti incontrare numerosi e importanti autori francesi contemporanei come Chalandon, Philippe Fauret, Céline Minard, Olivier Roy, Jean-Christophe Ruffin.